A distanza di otto anni dal sisma, il CAS cambia nome e anche nella sostanza il contributo di autonoma sistemazione a favore delle popolazioni terremotate del centro Italia dal 1 settembre diventa contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione. Come stabilito dal governo Meloni e dall'ordinanza attuativa del commissario Guido Castelli, la misura di assistenza verrà riconosciuta ai nuclei familiari, la cui abitazione principale sia stata distrutta o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici del 2016 e che hanno già richiesto il contributo per gli interventi di ricostruzione. Questo quanto il commissario ha spiegato nel corso della nostra trasmissione Caffè Con. Noi stimiamo che ancora debbano essere su 31.500 circa progetti presentati almeno altri 15.000-16.000 progetti da presentare. Quindi noi in questo momento abbiamo l'esigenza dopo otto anni che almeno siano depositati i progetti con la massima tempestibilità. Consapevole di questo problema io ho voluto fissare proprio una priorità proponendo alla comunità dei terremotati e dei tecnici di anticipare, di precedere, di dare priorità proprio ai progetti relativi alle prime case, perché l'obiettivo da questo 2024 deve essere proprio accelerare il rientro a casa di quegli 11.000 nuclei che sono necessari degli strumenti aggivolativi. A questo punto di vista abbiamo stabilito per esempio una scadenza, era il 30 giugno, entro la quale era assolutamente obbligatorio presentare il progetto relativo alla posizione di un nucleo che beneficiava delle assai e del CAS, pena la sospensione del contributo stesso. Il nuovo contributo, così formulato, sarà in gestione alla struttura commissariale, mentre il CAS era competenza della protezione civile, in quanto strettamente legato alle attività di ricostruzione. Il contributo ha riconosciuto anche i nuclei familiari la cui abitazione deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi di ricostruzione limitatamente alla durata del cantiere. Mantengono continuità anche le misure per i comodatari, mentre il nuovo CAS, al contrario del precedente, non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici dimoravano in un'unità immobiliare in affitto, con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La dichiarazione circa la permanenza dei requisiti va resa da parte delle famiglie interessate entro il 31 marzo di ogni anno, mediante la piattaforma informatica. Grazie.